con l'aiuto di un coperchio sottovuoto status gli alimenti che sono stati aperti saranno conservati come erano stati sigillati in origine sottovuoto se non li mangiate conservateli con cura per il futuro il coperchio ha due funzioni principali può essere utilizzato per richiudere i barattoli di già aperti sia acquistati che coltivati in casa o come ausilio per la conservazione dei prodotti coltivati in casa supponiamo che abbiate usato un barattolo di sottoaceti durante un picnic chiudete il barattolo di dimensioni standard come di consueto con il suo coperchio e metteteci sopra il coperchio status per sigillare il barattolo posizionate la pompa per il vuoto sulla chiusura e aspirate l'aria dal barattolo